Salve a tutti! Salve, siamo nel 1786, è appena stato mandato il documento in cui bisogna selezionare e classificare tutti i quartieri. Lei deve appendere la listella? Eh già! Bravissima! Carpi non è sempre stata come la vediamo oggi. Per esempio nel 1786 gli estensi, i signori di Carpi, fanno svolgere un censimento dei quartieri e delle case nel centro storico della città per dare una numerazione alle case che fino ad allora non l'avevano. In questo modo potevano tenere sotto controllo il versamento delle tasse da parte dei proprietari. Conseguente a questo, tutti gli abitanti dovessero affiggere sul proprio fabbricato una piastra con una lettera che indicava il quartiere e con il numero di... Salve, voi chi siete? Noi siamo braccianti. Salve, noi stiamo buttando giù il muro, quello di Carpi. E sì, la nostra è una vita di due anni. Ma, sa, lavori ogni tanto... Solo da poco è nata la CMB, che ci aiuta a darci un lavoro più stabile. Lui deve tenere su una famiglia. Vero? Quanti figli hai? Io ho cinque figli. Cinque, voi? Ed è poco per quest'epoca. Chieda a lui invece. Lui ne ha due o tre di famiglia. Io ho otto figli. E tu invece? Ah, io uno. Solo uno. Dobbiamo tornare ai lavori. Arrivederci. 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 Le mura erano state uno dei simboli del prestigio di Carpi. Persero però in importanza nel tempo. I lavandai ci stendevano i panni. I cittadini ci passeggiavano la domenica. Qualcuno ci poscolava le capre e capitava che ne frenassero delle parti perché i carpigiani ne rubavano i mattoni per costruire. Per oltrepassare le mura, l'unico modo era passare per le porte. I principali erano porta modena, porta manto e porta barriera che dava sul viale che portava alla stazione dei treni. Il consiglio comunale, dopo molte sedute, decise di acquistare le mura. Infatti erano indate in gestione a un affittuario e da battere. Così poterono dare lavoro ai braccianti disoccupati che manifestavano spesso per le condizioni di povertà in cui vivevano. Le autorità dissero alla cittadinanza che le mura venivano abbattute per far spazio a casa più ampie e luminose, per dare aria ai quartieri poveri dove vivevano ammassati in tanti in condizioni di igiene precarie. Guarda, questo è Raviale Carducci, che era così spazioso che i ricchi di Carpi hanno iniziato a costruire i primi villini, i simili Liberty. Il Liberty è un movimento nato in Francia nei primi anni del Novecento e caratterizzato da una linea sinuosa che si ispira alla natura. Le decorazioni in stile Liberty sono ghirigori che formano composizioni floreali che si ispirano anche a farfalle o libellule. Lo stile Liberty si interessava e personalizzava oggetti industriali come i mobili lampade, le famose lampade Tiffany, stucchi da interno a osterio. L'attuale CMV, Cooperativa Moratore Braccianti, nata nel 1904, allora conosciuta come il nome di Cooperativa Braccianti, fu fondata da 35 lavoratori carpigiani allo scopo di non farsi concorrenza fra di loro nell'ottenere gli appalti disponibili e avere quindi uno stipendio stabile. Era solo una delle tante cooperative che nacquero nei primi del Novecento con lo scopo di garantire condizioni di lavoro stabili e diverse categorie che si organizzavano aiutandosi al reciprocamento. Scusate, ma voi qua cosa siete i contadini? Sì, stiamo raccogliendo, loro stanno zappando per togliere le erbacce e io invece sto un po' curando la vite per quest'estate che nasce la luva. Ma spiegatemi bene quali sono le condizioni di vita di un contadino. Le condizioni sono pessime, si muore facilmente, anche da un cetaro e... Zappò? Beh, spiegatemi come mangiate, come vivete. Noi mangiamo quello che riusciamo a produrre dalla nostra terra. Perfetto, questa è la situazione di vita dei contadini. Ma come facevano le donne incinte a lavorare? Dove lasciavano i propri figli? Ho letto che andavano comunque nei campi a lavorare e lasciavano i figli piccoli a casa, con i vicini o con la famiglia e spesso soffocavano i bambini perché erano incustodivi. Lo sai qual era l'uomo fondamentale della donna nell'uncito 50? Non lo so, ma come stiamo impegnati? Le donne erano impegnate sia nelle fabbriche che a domicilio e spesso lavoravano le trecce e i capelli. E dove lasciavano i figli? Nelle scuole improvvisate i bambini dovevano lavorare la treccia perché dovevano aiutare economicamente la famiglia. E così è cominciata la nostra avventura con l'archivio storico comunale di Carpi. Lucia e Cristina, le nostre tutor presso l'archivio, ci hanno dato le fotocopie delle perizie dei periti agrimensori di alcune case del centro storico di Carpi del 1800 e ci hanno spiegato come fare per ritrovarle tra le case del nostro centro storico di oggi. I ragazzi erano molto emozionati di prendere in mano questi documenti di così tanti secoli fa. Non erano mai stati in contatto diretto con le vere fonte storiche. Le avevano soltanto studiate sui libri. Il quartiere A, Strada Maestra, andava da Porta Manta alla Porta Modena. Il numero civico A1 fu attribuito al Castello Ducale, il numero civico A2 al Palazzo del Descovado. Questo è evidenziato nel quartiere Strada Maestra. In questa strada, Corso Banti, nell'angolo Galilei, c'era la scuderia e il fionile. E i cavalli venivano usati come metri di trasporto. Siamo in Corso Banti. Avevano un pocile, il fenile, il granaio, una cantina, un portico e un pozzo. Siamo di nuovo in Corso Banti. Nella casa numero 537. Qui c'era il pollaio, il porcile e una scuderia. In via Giordano Bruno, avevano una dispensa, due tantine, il portico, il terrazzo, il porcile e un pollaio. Siamo in via Fontana, in questa casa di particolare c'era il porcile, un pozzo e un orto. Sempre in via Fontana, in questo edificio coltivavano canapa, oggi legale, per produrre tessuti. Siamo incontrati a Sant'Antonio, via Le Camassi. In questa casa avevano una stalla, un orto, due botteghe e due cortini. A un certo punto ci siamo intrufolati nei portoni e abbiamo scoperto che ogni casa ha un giacchino. Dunque adesso ci sono dei garage. Molti di questi sono in strutturazione a causa dei danni del territorio. Siamo in un ghetto, Alberto Pio 94, avevano una lavanderia, una cantina e una dispensa. Grazie. In via San Bernalvino, questa casa aveva la scuderia, un portico, una cantina, un pollaio e l'orto. Adesso siamo in via San Francesco e questa casa aveva un portico, due cantine e davanti ci passava il canale pubblico. Nella piazza di Garibaldi c'era un pozzo, una stalla, un portico e una cantina per un cammino. In corso Roma, angolo di via San Francesco, aveva un cortile, una cantina e ci passa davanti un canale pubblico. Ehi Chiara, guarda cosa ho trovato in questo libro. Si chiama Capi di Ieri, ci sono fatti nella nostra città tra il 1800 e il 1900. Dai, fammi vedere che sono curiosa. Qui c'è un hotel, di nome ancora, è il canto al Duomo. Wow, davvero? Guarda qua invece, c'è un portico lungo. Lo ricoprivano fino in fondo, perché così le persone potevano coprirsi facilmente da sole mentre passeggiavano. Sai anche che la pezzetta, cioè Piazza Garibaldi, prima allora si chiamava Piazza delle Erbe, perché lì ci facevano il mercato della frutta della verdura. Si faceva qualcosa in particolare? Sì, Piazza delle Erbe era un luogo di incontri e giochi, ma anche di scontri fra varie bande del quartiere. Interessante, poi c'era anche un chiosco. Cosa si vendeva? I cuori. Gli operai ragioni di campagna andavano lì per bere un bicchiere di brusca. Che cos'è la brusca? È un tipo di grappa. Guarda questa foto, è particolare. È vero, guarda c'era la foto di Manfredo Fanti. Io l'ho già vista questa foto. Infatti adesso si trova nel parco delle Rimembrante. Che cosa facevano le persone per il periodo per divertirsi? Sì, boh, secondo me senza la tv stavano molto al bar, come ti avevo detto prima. E poi guarda qui, si divertevano con poco, si sono persino inventati la corrida nello stadio. Grazie a tutti. Nei pomeriggi assieme abbiamo sfogliato tessi di storia locale e confrontato le piantine antiche con quelle di Carpi al giorno d'oggi. E le colleghe di arte hanno guidato i ragazzi ad immaginare come poteva essere la piazza e come potevano essere i giardini di queste case di 200 anni fa. Questa casa è sull'attuale Corso Fanti, ai numeri 27 e 29. Ho scoperto che all'interno si trovavano tantissimi oggetti che oggi non si usano più. Per esempio? Per esempio la fornacchiella, che era una specie di barbecue per cucinare all'aperto. Il lavello, cioè il lavandino di pietra, che usavano per lavare i panni. E il pozzo senza gravio, cioè si usava l'acqua al suo interno senza polare. Guarda questa, c'era la legnara. Tutti ne avevano bisogno, perché non c'erano certi se il termo si pone. Hai proprio ragione. C'erano però anche il pollaio e la colombara, perché allevavano direttamente gli animali da mangiare. All'interno si trovava un altro elemento molto particolare, una cappella frescata. Wow! Dentro alla casa! Non me lo sarei mai aspettata. Questa casa aveva un ingresso con due macchine murate. La perizia dice che era una fabbrica di vasi con un forno per cuocerli e una camera per siccani. Non è meraviglio, Lucia dell'Archivio ci ha spiegato che la terra del nostro territorio era molto adatta per fare la terra colta, quindi c'erano alcune fabbriche di artigiani che facevano vasi. Questa casa si trovava in via Sant'Antonio, che oggi è diventata Corso Cabassi. L'aperizia indica che c'erano la stalla, una bottega, una loggia e la legnara. Erano veramente particolari le cose del 1800. Infatti dovevano essere molto belle, perché una loggia era una specie di portico all'aperto. Dovevano essere molto ricchi perché la stalla serviva per i cavalli della carrozza. Perché non proseguiamo in via Sant'Antonio Cabassi? Questa casa era del 1600. All'interno c'erano vari elementi particolari, per esempio la buga d'ara, che era la lavanderia. Il topico c'era un gabinetto esterno comune per tutti gli abitanti della casa. E di notte come facevano? Scendevano in giardino? No, tenevano il vaso da notte sotto il letto e lo svuotavano nel topico al mattino. Quel pomeriggio la prof ci ha portato in via Manuzio e in via Sardegna e abbiamo osservato che sulle carte artiche di Carti in quella via c'era il portico, ma abbiamo notato che non c'è più. E che cosa c'è ora? Li hanno sostituiti con dei garage. Solo in via Giordano Bruno hanno mantenuto i portici. E noi troviamo alzato gli occhi al cielo e abbiamo scoperto una striscia di alfresco azzurro sulla casa della via 20 Settembre. La pubblicazione artica di questo edificio è nel Dio. Ma che cosa hai detto? Non lo sai. In tutte le città d'Europa gli ebrei erano costretti a vivere tutti in quel quartiere perché c'erano molti pregiudizi su di loro. Borgo Forte, oggi c'è una manina. Infatti era un edificio molto grande con tanti locali di servizio a pieno terra, scuderie, collaio, dispensa e regnare. Parla anche del piano nobile, cioè il primo piano dove abitavano. C'era la cucina con l'uso del pozzo, il lavello e il sinile. Qui è via Retti, dietro al corso Roma. Dove c'era un mulino. Esatto, prima c'era anche un canale che attraversava la piazza. Perché c'era un canale? Perché veniva usato come spazzatura pubblica per i regali e serviva il mio mio. Guarda che sono trovato. Me l'ha dato la prossima, intitolata nel famiglia e parla delle famiglie nel 1900. Che ne dici di guardare le foto? Va bene. Proviamo a leggere qualcosa sulle famiglie borghesi. Tutta la borghesia carpigiana, arte media e non escluso quella impegnata sul versante industriale, possedeva fondi e di conseguenza godeva di un rendito misto. Sotto l'aspetto economico non aveva nessun problema. Che cosa vuol dire che queste famiglie godevano di un rendito misto? Mi ha spiegato mio nonno che significa che il padrone borghese, oltre che avere un lavoro soddisfacente come l'avvocato, il nataio, il dottore o il commerciante, possedeva anche dei campi che venivano lavorati da contadini, con cui il padrone divideva il raccolto e loro pagavano l'affitto al padrone. Certo che erano famiglie numerose, forse perché allogiano in ogni casa padre e madre, zii, figli e nonni. E guarda come sono cambiate le foto delle famiglie. Ora sono molto più ristrette e in verticale, mentre quelle del 1900, degli inizi, sono in ristrette e in verticale, quindi giusto che c'erano molti più membri. Oh, le famiglie contadine! Sono davvero curiosa di scoprire le loro particolarità. Nel caso delle famiglie di affittuali, mezzadri e terzadri, la peculiarità poteva essere proprio la consistenza numerica, il rapporto all'esigenza della forza braccia utile a lavorare il fondo loro affidato. Queste famiglie erano intese e si intendevano in primo luogo comunità produttiva e patrimoniale. Non invidio per niente le loro vite, anche perché all'età di 4 anni iniziavano a lavorare con i padri, le sorelle e i fratelli. Perché dovevano produrre molto cibo per la loro famiglia. Questi si chiamavano mezzadri. Inoltre c'è una testimonianza di una donna borghese che aveva moltissimo cibo che le procuravano i contadini, che spesso veniva sprecato. Mia nonna faceva parte di questa classe sociale e mi ha detto che la vita tutti i giorni era complicatissima. Intendevi anche come i pasti? Sì, esatto. Perché tutti i giorni si facevano uno o due pasti con un po' di verdura, pasta asciutta. Direi che oggi abbiamo appreso abbastanza su queste famiglie. Ok, ci vediamo domani, Chiara. Ciao. Guardate cosa ho trovato. L'ho trovato tra i libri della biblioteca. Ci sono delle foto che riguardano le buccele nel 1950. Sono molto diverse da quelle del 1800. Infatti nel 1800 non c'è il più di libro. Per conservare i cibi c'erano le ghiacciai, cioè dei nuovi ghiacciai che i sorelli si potevano per mettersi. Non solo con le ghiacciai, ma i cibi venivano trattati in modo da autoconservarsi anche con le spezie. Ma soprattutto si compravano giorno per giorno. Per cucinare ci usavano il famiglio, mentre nel 1940 c'erano le cucine a muoce. E le dispense? Nel 1950 le dispense erano dei piccoli mobbi, mentre nel 1800 le dispense erano delle grandi distanze, a piazzerreno, dove si tenevano le conserve come marmellata o come d'oro. Ma come si faceva il buccele? Mia nonna mi ha spiegato che nel 1950 il buccele si faceva così. I panni si lavavano a mano, nella mastella con sapone, spazzola ed ascia. Quando l'acqua bolliva si aggiungeva la cenere. Gli indumenti da lavare si mettevano dentro una mastella, poi si sistemava sopra un telo e si versava sopra l'acqua con la cenere. Si lasciavano così i panni in ambollo, in modo che lo sporco veniva via più facilmente. Si chiamava la bugadara. Molto interessante. Oggi invece il bucato si fa con la notizia. Ma come facevano con la distribuzione dell'acqua? Nel 1800 il rubinetto non rispera, quindi si andava a prelevare l'acqua dai bucchi. Ma dove erano questi porti? Erano situati negli orti in altre stanze. Questa è casa mia ed è stata edificata nel 1450 per volere della famiglia Barzelli. Nel primo censimento avvenuto a Carpi nel 1822 il numero civico della casa era E360. Dalla prima perizia nel 1822 a quella del 1835 possiamo vedere come il cortile interno è stato rimpicciolito e anche l'ingresso. Entrando nella casa c'è un loggiato che porta direttamente al cortile interno dove l'anno in cui è stata edificata la casa è stato piantato un albero di carpine che è presente tutt'oggi. Le colonne che cingono il cortile interno mostrano una notevole somiglianza con quelle del cortile interno di Palazzo Pio. Possiamo vedere come i muri erano più spessi rispetto ad oggi. Le scale erano originali e sono state costruite quando è stata edificata la casa e non sono mai state restaurate poiché è formato da un marmo pregiato che non viene più venduto. Il soffitto è a cassettoni e è molto usato a quei tempi. Questa è una camera da letto dove nel 1500 possiamo vedere che c'erano molti cammini come anche nella sala da pranzo. Poi, questo è il piano terra della casa attuale, con l'ingresso del cortile interno e oggi nella parte di destra ci sono degli uffici e al primo piano invece c'è la parte abitativa. Penso che questo progetto vi abbia fatto vedere in modo diverso la storia perché sono immedesimato i panni di un storico e lavorato come esso cioè analizzando vari documenti, in questo caso perizie facendo un confronto tra la vita di oggi e quella di ieri e raccogliendo anche delle fonti, delle testimonianze fornite dai nonni. La cosa che mi è piaciuta di più è stata fare il riassunto, l'intervista dei nonni e ho scoperto delle cose nuove che non sapevo sulla vita tra oggi e come anche il tempo. Questo progetto mi ha fatto capire come vivevano le famiglie nel 1800 anche se in storia siamo nel 1700. Ho capito che vivevano in modo disastroso perché in quel periodo, oltre alla retrata coltivazione, c'era il colera. Questo progetto mi ha aiutato a capire il passato in modo diverso e più personale entrando in vivo e facendo storia in modo differente e istruttivo anche dal punto di vista culturale e sociale. Mi ha fatto capire meglio la storia della mia famiglia e penso che mi errorà quasi tutto di questo lavoro. Il progetto è stato molto utile perché è stato un modo alternativo di studiare storia. Inoltre sono anche riuscita a collegare gli eventi studiati in storia con quelli sulla vita dei miei nonni. In particolare mi ricorderò il ruolo della donna nella vita politica e sociale nella città che ad ogni cento della società corrispondeva uno stile di vita diverso e di conseguenza una casa con ambienti diversi. Questo progetto mi ha fatto vedere la storia in un modo diverso perché con esso abbiamo analizzato la storia della nostra città e della mia famiglia che sui libri ovviamente non potevamo trovare. In particolare mi ricorderò dell'allegria con cui abbiamo lavorato e dell'uscita che abbiamo fatto per fotografare le case di cui avevamo in precedenza analizzato la perizia. Penso che questo progetto mi abbia fatto cambiare il modo di vedere la storia perché la storia non è solo quella dei libri ma anche come abbiamo fatto noi esaminando le perizie, facendo le interviste ai nonni e scoprendo dal vivo le differenze tra case di ieri e oggi. Mi è piaciuta di più l'intervista ai nonni perché è stato interessante scoprire che in solo 80 anni circa gli è morto stanze e gli oggetti sono stati modificati o sono scomparsi. Ho apprezzato di più i beni culturali grazie a questo progetto perché sto accorgendo che sta nascendo in me una curiosità rispetto alle case di ieri del 1800 e quelle di oggi. Questo progetto mi ha fatto apprezzare i beni culturali della mia città perché da adesso quando giro e vedo una casa abbandonata mi piacerebbe scoprire di chi era se si può fare qualcosa per aggiustarla e anche per la sua storia scoprirla. Questo progetto mi ha fatto apprezzare i beni culturali della mia città perché mi ha fatto scoprire molte cose e vorrei continuare ad approfondire la storia delle case di Carpi. Allora, secondo me questo progetto è efficace per rendere i ragazzi più interessati ai beni culturali perché anche tramite le interviste che hanno fatto ai loro nonni riescono a capire come vivevano un tempo rispetto ad oggi e anche avendo visto come erano le case una volta sentono più coinvolti e quindi più interessati a sapere come era il passato. Per la mia personale conclusione ho scelto le immagini della visita alla casa della collega di arte che è in pieno centro storico. La nostra guida era suo figlio che è appassionato da sempre di dimore antiche. Credo che l'efficacia del lavoro svolto dai ragazzi sul piano della valorizzazione dei beni culturali sia già espressa da queste foto. Infatti hanno avuto come modello un loro coetaneo che ha saputo districarsi fra le carte antiche per trovare le risposte alle sue curiosità. Ma noi abbiamo potuto anche andare oltre le carte. Siamo entrati in uno di quei portoni bui che sanno odore di cantina e lì abbiamo trovato un giardino interno da cui si ammiravano tutti quei tetti di altezze e colori diversi perché le case vengono modificate in epoche diverse secondo le esigenze di chi le abita. Insomma, è stato come inquadrare in un solo colpo d'occhio la storia di chi era vissuto lì negli ultimi secoli. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.